Intornati carissimi qui sul canale del Dottor Sedray e benvenuti a questo video sicuramente particolare. Video particolare perché oggi invece che di parlare di filosofia e di storia della filosofia parliamo di letteratura, ovvero di un libro che è uscito recentissimamente e che sicuramente voi non conoscete e al contempo non conoscevo nemmeno io prima di leggerlo e non conoscono nemmeno i vostri amici a cui potete tranquillamente regalarlo per Natale per fare la figura di coloro che avranno tirato fuori una perla da quel fango in cui ci troviamo che sicuramente vostro amico non conosceva. Sto parlando di un testo veramente interessante italiano che si chiama L'uomo dell'anno di Giovanni Mestrini e Michele Simonetti. È un testo che mi è stato proposto da un mio caro amico che saluto, ciao Lorenzo, il quale conosce direttamente gli autori e che ho anche avuto la fortuna di conoscere al matrimonio di questo mio stesso amico, di questo mio caro amico Lorenzo che risaluto, ciao Lorenzo. No, questa roba la tagliamo. Bene, devo dire la verità, nel momento in cui il mio amico mi ha proposto un testo scritto da dei suoi amici partivo estremamente titubante, un po' perché avevo come dire paura che poi il testo non mi piacesse e al contrario di volerne fare un video sul canale, poteva succedere semplicemente di trovarsi nella situazione in cui si faceva fatica a dare un risponso che avesse dei tratti positivi. Questo è il mio punto di partenza purtroppo basilare da intellettoloide maledetto quale sono e possiamo tranquillamente anche estendere un velo pietoso sul mio atteggiamento iniziale nell'affrontare le cose nuove. Ma, devo dire la verità, sono stato fortunatissimamente smentito da questo libro stesso perché si tratta di un testo che mi ha stupito enormemente. Non mi sono trovato di fronte a un'opera, come dire, basilare, iniziale, nonostante sia un'opera prima di questi due giovani autori italiani, che è una cosa che mi fa tra l'altro anche piuttosto piacere, ma al contrario mi sono trovato di fronte a un testo estremamente interessante e soprattutto originale. Si tratta di un romanzo e all'interno di questo romanzo la storia narrata è sicuramente un qualche cosa che, certo in certi tratti posso anche aver rivisto, ma parte da un'idea, per quanto mi riguarda, veramente interessante, perché certo rappresentativa della nostra società, ma inserita all'interno di una società simil distopica, perché si tratta di un futuro possibile ma non lontano, un 10-15 anni nel futuro che quindi mantiene ancora profondamente i tratti del nostro mondo, pur avendo delle innovazioni di cara dal sapore un po' fantascientifico, però molto lievemente, perché è un futuro prossimo, come dice il libro stesso. Si tratta di una storia che va a scavare in un certo senso nel nostro modo di esistere, nel nostro modo di rapportarsi a una realtà sempre più informatica e oggetto di vendita e al contempo al nostro rapporto con noi stessi, che vogliamo essere sempre di più l'uomo dell'anno, l'uomo su cui tutti gli occhi sono puntati per un anno. La storia infatti, come dicevo, si pone in un futuro prossimo in cui c'è questa grande estrazione a cui alcuni paesi del mondo, soprattutto d'Europa, hanno iniziato a prendere parte e un personaggio, una persona a caso, tra tutti gli italiani che comprano determinati tipi di prodotti, viene estratta per fare la vita del super influencer, che viene seguito per tutta la sua giornata, per tutto l'anno che verrà nel futuro e diventa fondamentalmente la personalità di riferimento di quello stato. Ed è un qualche cosa di estremamente interessante, essere Chiara Ferragni per un anno per chiunque venga estratto il 31 di dicembre di ogni anno. È molto bello perché in questo senso il mondo che viene costruito è sì plausibilissimo, perché è un qualche cosa che effettivamente potrebbe succedere, magari non con l'entusiasmo che viene descritto all'interno dell'opera, ma che non è così lontano da un programma tv che può essere costruito e soprattutto va ad inserire nella dinamica del programma televisivo plausibile, che cosa? Il nostro rapporto con il corpo, il nostro rapporto con l'identità, un'identità sempre più mercificata dalla dimensione social in cui siamo calati nella nostra esistenza. Noi vendiamo noi stessi, io sto in questo momento vendendo me stesso a voi attraverso la costruzione di questo video, io sto vendendo l'immagine di me che voglio darvi, che voglio farvi vedere. Il libro su questo ragiona molto, ragiona molto su quali possono essere i punti a favore e i punti a sfavore di una situazione di questo genere. Il punto di vista del protagonista non ve lo vengo certo a spiegare adesso per non rovinarvi la storia, perché la storia è anche ricca di colpi di scena, alcuni estremamente interessanti, altri ovviamente come in tutte le storie un po' meno, ma si tratta sicuramente di un libro che chi legge, chi lo legge, chi ha la fortuna di leggerlo, sicuramente ricorderà. E per questo mi sento di fare una bella pubblicità a quest'opera, che è un'opera piccola, una primissima opera di due autori italiani che si sono lanciati in un progetto veramente folle sotto certi punti di vista, ma che al contempo secondo me merita assolutamente la spinta da parte del pubblico, visto che ovviamente non hanno la possibilità economica dei grandi autori per imporre il proprio testo, una piccola spinta e io nel mio piccolissimo spero di potergliela dare, perché questo, ribadisco come ho detto all'inizio, è un regalo che se fate ad altre persone potrebbe rimanere come un elemento, una pietra miliare di un qualche cosa che se ha fortuna, se viene letto dalle persone giuste, potrebbe diventare anche un mezzo cult. Questa opinione personale magari sto assolutamente sbagliando, ma lo auguro pienamente ai due autori, ribadisco a Giovanni Maestrini e Michele Simonetti, che hanno scritto L'Uomo dell'Anno, ai quali auguro vivissimamente una grande fortuna e invece invito voi eventualmente a regalarlo a qualcuno per Natale, il link lo trovate in descrizione, io non sono assolutamente stato pagato per fare questo libro, se non ricevendo questo testo, di cui per inciso io non ho, e qui vergogna agli autori, una copia autografata. Su questo bacchetteremo ovviamente i due autori che qualora diventassero super famosi non mi hanno neanche dato il modo di avere in mano un testo autografato che varrà miliardi. Questo ovviamente ce l'auguriamo tutti, ma a questo punto io non posso fare altro che augurarvi una buona giornata e noi ci vediamo sicuramente con un prossimo video. Video tra l'altro estremamente interessante, perché vedrete molto a breve quanto sono in grado di mercificarmi per la fama.